Questa sera a Napoli si ricordano le quattro giornate, 27 settembre e 30 settembre 1943, la riscossa del popolo napoletano e non solo. Un ottimo modo per ricordare questo momento, questo evento, è un concerto di beneficenza tra la banda dell'esercito, diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila, e la Fondazione San Giuseppe dei Nuni. Maestro, un suo pensiero su questo evento? Beh, è un evento che ricorda appunto l'inizio della liberazione dell'Italia nel 1944, quindi è giusto che la memoria venga sempre rinvigorita. E questi concerti servono appunto, come dice il titolo stesso, concerto della memoria, a cercare di non dimenticare o comunque di rendere sempre vivo con la musica, in questo caso, un pensiero che dobbiamo sempre avere verso il nostro passato. La sua banda, 102 professori che vengono dai migliori conservatori d'Italia, fa tanti brani, ma c'è un brano particolare che lei ha nel cuore? Guardi, no, uno in particolare no, ce ne sono diversi. Recentemente abbiamo eseguito per esempio della musica di Ponchielli, che è stato uno dei più grandi autori dell'Ottocento per banda, anche se non tutti lo sanno, e ha scritto delle pagine veramente memorabili. Ecco, in questo momento ho nel cuore quei brani che ci hanno portato a una nuova gioia di far musica, musica del passato, ma musica che non era più stata eseguita da tanti tanti anni, quindi è stata veramente una bella cosa. Maestro, i suoi tre squilli di attenti sono quelli che danno il via alle manifestazioni ufficiali, quando rendo gli onori alle massime autorità che vengono in visita in Italia, non solo, ma anche al nostro capo dello Stato. La sua emozione nel momento in cui dà quei tre squilli di attenti? Ma guardi, i tre squilli, soprattutto gli onori al milite ignoto, sono veramente emozionanti. E quando uno dei miei trombettieri, così si dice in gergo, in realtà trombettisti, esegue il silenzio all'altare della patria, è veramente una cosa commovente. Anche se in quel momento in effetti io sono parte spettatrice, perché in quel momento suona solo il trombettiere, però c'è un silenzio veramente che fa venire i brividi in tutta piazza Venezia. E non solo a lei, ma anche noi che lo vediamo.